Partono bene gli azzurini del volley, esordio vincente e soprattutto convincente agli europei under 20. Al Palaroma di Monte Silvano finisce 3-0 ai danni della Slovenia. Approccio timido dei nostri, costretti ad inseguire gli avversari, efficaci soprattutto nella fase difesa-contrattacco. I ragazzi di Battocchio però escono alla distanza e dopo aver annullato tre set-ball agli sloveni, chiudono il gioco ai vantaggi 27-25. Si riparte con un'Italia diversa, consapevole e determinata, Bovolenta e Porro trascinano i compagni e portano a casa il secondo parziale, 25-18. Non cambia la musica nel terzo set, l'Italia gioca, gioca bene e si diverte. Il 25-15 finale ci regala i primi tre punti. Soddisfatto coach Battocchio. Abbiamo fatto sì delle imprecisioni ma penso che in nessuna azione si possa dire che abbiamo mollato un centimetro. Questo è il carattere che hanno questi ragazzi. Sappiamo che possiamo fare un po' meglio però tanta roba insomma. Stasera si torna in campo contro la Francia che ieri è stata battuta dalla Serbia. Nell'altra gara della Pool 1 la Polonia ha superato 3-1 la Slovacchia.